Difficile trasferta contro i vice campioni d'Italia di Civitanova per la formazione della gioiella Prisma Taranto con il nuovo tecnico in panchina Travizza che sta lavorando per trovare nuove sicurezze ed equilibri. Civitanova viene da una striscia di vittorie consecutive in campionato dopo il K.O. in Supercoppa contro Perugia. Quattro vittorie convincenti con la stessa Perugia, Milano, Catania e ultima Modena. Ottimo il lavoro anche in Coppa CEV. Per quanto riguarda la formazione ospite, Taranto sta cercando di trovare gli schemi migliori ma soprattutto dare una risposta importante sul campo. I parroni di casa, forti anche di Jant e Zayzev, cercheranno invece di conquistare tre punti pieni. Mister Travizza ha dichiarato alla vigilia Sappiamo bene chi andremo ad affrontare. La Lube è una squadra vincente che lascia poco spazio all'avversario dotata di grandi campioni. Mi aspetto dei ragazzi che andremo a Civitanova di vendere cara alla pelle con i nostri limiti tecnici o tattici e dobbiamo concentrarci per risolverli dalla nostra parte del campo prima di guardare oltre la rete. Quello che dobbiamo fare è scendere in campo per vendere cara alla pelle e tutto ciò che chiedo al mio gruppo. Qualsiasi avversario andremo ad affrontare, al momento non posso dare giudizi su questo gruppo, in primis chiedo di guardare al nostro campo e quindi al nostro campionato. domenica e per tutte le altre partite. Ricordiamo che la gara avrà il primo scambio alle ore 18 di domenica. Gli arbitri Rossella Piana e Luca Saltalippi. La pallavolo contro la violenza sulle donne anche nel weekend su tutti i campi un minuto di rumore ed è bene ricordare che nella settimana la formazione ionica ha anche ospitato il padre di Federica De Luca e nonno del piccolo Andrea scomparsi per femminicidio nel 2016.